In questi casi si gioca per vincere, non per partecipare, però sapere che intorno c'è tutto questo affetto è qualcosa che ti fa salire sul treno con le farfalle nello stomaco. Parole e musica di Alessandro Ramagli alla vigilia del match contro Brescia che segna il ritorno della Virtus in Coppa Italia dopo sei anni. Emozione e senso di responsabilità, voglia di cercare quello che lo stesso tecnico Livornese chiama colpo. Bisogna fare un colpo al primo giorno, dice, e poi vedere cosa succede. Noi andiamo con questa mentalità. Contro Brescia nessuno si illude. Sarà difficile, nonostante la botta di domenica scorsa subita a Varese, dove i Bresciani hanno incassato 100 punti e un trentello di differenza. Brescia è forte, quella sconfitta non c'entra nulla, come la nostra a Sassari, perché quello che è successo in campionato si disconnette con ciò che accadrà al Mandela Forum, sostiene il coach bianconero che a Firenze, nel 90, quando Ettore Messina portava a casa la Coppa delle Coppe, da appassionato di basket c'era. Me la ricordo bene quella partita, racconta il tecnico. Questa è una società che ha una storia quasi centenaria alle spalle, costellata da una serie di vittorie indimenticabili. Però sappiamo anche che noi stiamo vivendo un anno di ripartenza, dobbiamo fare un passo alla volta. Afferma con l'intento di chiarire come non sia il caso di fare paragoni, ma godersi tutto ciò che verrà. Anche perché, giocando tre partite in tre giorni, è ovvio come certe corazzate partano, favorite d'obbligo. È chiaro, spiega, che l'Olimpia a Milano è la squadra più attrezzata. Non trascurerei Venezia e Avellino, che hanno roster profondissimi, ma nessuno ha la profondità di quello di Milano. La preferenza di Ramagli, che invece vede accorciare il suo di roster dall'assenza grave di Pietro Aradori, oltre che dalle condizioni non perfette di Stefano Gentile, comunque ha ruolato per la causa. Ci si proverà, la mentalità è questa.